Roba minima si intende, roba de barbun e chissà se con le scarpe da tennis. Beninteso, sempre che si possa definire così, una mazzetta da 30.000 euro in banconote da 500 in cambio del permesso per costruire un nuovo palazzo sistemato nello spazio verde e tra altri due condomini. Una cifra per un comune mortale, poco in rapporto alle tangenti nazionali e regionali, evidentemente il giusto per gli amministratori comunali di Caratebrianza finiti nel merino della procura di Monza, con tanto di arresti nello scorso luglio. In cima alla lista l'ex responsabile della commissione di Lizia, il pidellino Maurizio Altobelli, accusato di corruzione e concussione. Aveva pensato di aver segnato un gol ed invece è stata un autorete, 400.000 euro per avere cambiato destinazione d'uso di un'area. È stato lui a fare il nome di un architetto che però avrebbe preso ordine indirettamente dal sindaco e dell'assessore, che all'epoca dei fatti rispondeva al nome di Sandro Sisler, poi dimissionario, in seguito alla sua nomina, coordinatore provinciale del PDL. È questo il nome nuovo nell'indagine che ieri ha visto la Guardia di Finanza in Regione per acquisire documenti riguardanti i pareri dati in cambio di destinazioni d'uso del PGT di Caratebrianza, certamenti che fanno prevedere nuovi sviluppi dell'inchiesta con il coinvolgimento non solo di politici locali. Secondo Altobelli, Sisler era il destinatario della mazzetta da 30.000 euro che gli venne consegnata da un imprenditore. All'ex assessore però ne arrivò solo un terzo perché, ha detto Altobelli, in quel periodo avevo delle spese.